Matteo Messina Delaro, il noto latitante catturato qualche mese fa, risponde finalmente ai giudici che lo interrogano, li avevo, me li avete tolti tutti, se qualcosa ho non lo dico, sarebbe da stupidi e poi ancora certo che ne ho, se no come potevo vivere fino a ora? E sono queste le risposte che il boss di Campobello di Mazzara ha fornito alle domande dei giudici sul suo patrimonio nell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto lo scorso 16 febbraio in videoconferenza dal carcere dell'Aquila, con il GIP di Palermo, Alfredo Montalto e i pubblici ministeri Giovanni Antocio e Gianluca De Leo, Messina Delaro indagato per una tentata estorsione aggravata nei confronti di una proprietaria terriera, Giuseppina Passanante, figlia di un vecchio boss. Io ero, lavoravo in campagna, un agricoltore a Castelvetrano, sono celibe dal punto di vista economico e non mi manca nulla, afferma Delaro. Mi sono ritirato dalla scuola dopo la terza superiore, quindi sì, ho la terza media. Matteo Messina Delaro risponde così alle domande preliminari del cancelliere prima di iniziare l'interrogatorio di garanzia che è avvenuto, ricordiamo, il 16 febbraio in videoconferenza dal carcere dell'Aquila con il GIP di Palermo, Montalto e i pubblici ministeri Antocio e De Leo, Messina Delaro indagato per una tentata estorsione aggravata nei confronti di una proprietaria terriera, Giuseppina Passanante, figlia di un vecchio boss. L'ex superlatitante scoppia a ridere quando il cancelliere gli chiede se è sottoposto ad altri procedimenti penali. Non lo so, risponde Matteo Messina Delaro, ma penso di sì. Voglio rispondere, ma le risponderò su tutto quello che compete la mia persona, sul resto non mi interessa rispondere. A un tratto, negli ultimi anni, vengo a sapere che lei, la Passanante, stava vendendo il terreno. Tra parentesi, avevo l'affare concluso sotto prezzo perché prendersi questi soldi di questo terreno, cioè lo rubavo e pagassi il mutuo. E avrebbe pagato tutto con i miei beni. Arrivati a un dato punto, questi sono discorsi, per meno non essi, perché le persone soffrono come vogliono, ma va bene così, ognuno poi risponde con la propria dignità delle cose che fa, nel bene e nel male. E allora che cosa ho fatto? L'ho contattata con una lettera, continua nel suo interrogatorio Matteo Messina Delaro, e gliel'ho firmata, ma con pseudonomi, firmando proprio come Matteo Messina Delaro, perché credevo di essere nella regione dei fatti. Matteo Messina Delaro risponde così quindi alle domande nell'interrogatorio di garanzia che si è svolto, come già dicevamo, il 16 febbraio in videconferenza dal carcere dell'Aquila. L'ex superlatitante ha poi confermato di aver avvicinato anche i compratori sulla vicenda dell'essorsione, allora voglio chiarire, se fosse stata Biancaneve a parlare con questi che stavano comprando la terra, si sarebbero fatti una risata, quindi per forza dovevo essere io.